Let me take you on a journey Come with me on this journey I'm not sure if I can do it I'm not sure if I can do it I'm not sure if I can do it mi rialzo sono pronto per andare a prendere il mio amico Frank il carnavalciolo ecco lo dico che l'ava e l'amico c'è in tallasturante da Miami siamo qui signori nelle falde acquifere e vai ci riposiamo pronti per una discesa sempre più ripida non so se la vedete signori e l'amico Frank il carnavalciolo lo chef sempre te la fanno sempre di più l'amico Frank cerca di te la fare ma la discesa è molto ma molto ripida delle curve a destra e poi signori guardatelo a sinistra sempre di più la carica di uno che si si vede lo sforzo della montagna che viene la pulpa guardate signori che angolazione andiamo a prendere stava di turpeggiando e adesso signori signori dopo la lunga e bifida giornata l'osso santo dopo l'osso santo che non va e come si dice signori dopo una lunga discesa si scende che si scende sempre più rapidi la stanchezza si fa sentire signori e il navacciolo riprova a ripartire signori riparte sempre di più derrapando non si ferma non si vuole fermare si destreggia sempre in più 60 signori quasi 2.70 ma la tavola fa brutti scherzi guardate la tavola come vincola vincola e fa brutti scherzi si scendeva il giuolo per fin di stop nella lunga non sta battando non sta battando non sta battando già prendere del frec signori qui dal lago Tacerno è più o meno tutto ci si vede tra un po' e quattro d'ora 40 minuti 35 30 15 minuti un amico donato mi si seguita dalle forze a Quifere abbiamo fatto cadere il ramo e c'è col cioccolato pound per la produzione il nostro cioccolato faccio ciucca ciucca qui per il trato l'aceno il fratello JJ grande Lappas è entrato alla scena 4 l'aceno c'è il fratello JJ canna faccio pronto appena dalla seggioria quando è sceso lì e pronto per partire signori sono della fata e mi ragioni siamo pronti per scendere signori a terra per andare a terra per andare a terra merito amico G così versi volare mi mi tolto dove fai guarda che l'amico Dalas vedi come va bene spesso con l'incidente che si può fare siamo fatti guarda qua 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 da quest'altra parte ci sono anche dei bambini ma si stanno tornando indietro signori sono io l'amico Jane Jane dubrante dubrante ci fermiamo a metà scesa lì vieni vieni Jane Jane seguimi Jane fantastica signori stavo scivolando stavo scivolando seguimi Jane nella caverna andiamo nella caverna signori che la fanno nella caverna abbiamo preso un botto abbiamo preso un botto il signor Cannavacciolo è sempre lì presente stiamo andando nella nostra cavernicola dove nessuno ci vedrà per fumarci il nostro Jane Jane proprio comparto qui nascosto nella città e lui fratello Jane Jane Cannavacciolo siamo pronti siamo pronti signori siamo pronti con la città dalle palle a qui per il diagolo del mondo per il nuovo messaggio si si è lui ma non di morte il signor Cannavacciolo eccolo qui sempre più veloce una burpa una burpa una burpa una burpa a 2.80 a 2.80 a 2.80 la tavola che è in arma è un amacciuolo signori non lo possiamo far scappare dobbiamo vedere la sua caduta signori la sua caduta la dobbiamo vedere non ci vediamo non ci vediamo sempre di più nelle palpe non ci vediamo 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 guardate signori che striccia come passi a 2.80 ho la tavola che dipende da un lato signori vibra un po' vibra ma ce la faremo ce la faremo una da due l'abbiamo presa guardate che è ripida ripida il mio caravaggio si è perso ha sbagliato strada lo dobbiamo dare a presto siamo pronti questo è il palpe 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 non va più bene non va più bene non va più bene sta con le giocchi a terra saltellando saltellando signori agli ultimi scorcioli è ripasito lo scelto è il palpe tutto di volta questo lo dobbiamo prendere se la fa la telecamera se la fa sicuro non si fermerà si fermerà si fermerà il tempo e le palpe si è fermato non ci fermavamo anche noi le palpe ce l'ha fatta signori con un colpo di voca e una stessa si è fermata direttamente nella falsa più acquifera non ci capisci niente questo 200 è una cavola che non va bene ma ora muoviamo ragazzi ragazzi è finita è finita è finita signori ai bussia ciò è il primo è finita bravo Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.